Il collega qui si spesa il valore, si lascia l'intervento nell'azione mondiale che uno vuole essere, insomma qua, con la semplicità di sé, quindi mi fa piacere poi che trovo che sono persone anche di un certo spiego. Io voglio contare, veramente sono contento di questa migliazione, di questo modo di solito, anche volentieri, ma quello che dico io, scusate, non si preoccupate, non si fa, il problema è un altro, il problema è che oggi la giornata ha la possibilità, forse per la prima volta, la priorità, il cambio unile, sono questi, perché siete bravi a chiederci di trovoci in modo costitutivo e di, diciamo che dice, come questo giornale, lavorare tanti abitanti passano in grado che alcune situazioni in questo modo in generale. Io penso la posizione che avrò citata, lavorando con il progettivo tutta, e quindi, oggi, per patire, la possibilità di leggerlo tutto, dice, per diventare, quindi la maggioranza dovrebbe allineare, ai miei, probabilmente, il giorno non accadrà. Però guardate, non potete, voglio, in qualche volta dovete mostrare i buscoli, il bagno dell'apprezzazione, se sarà, alcun problema, e poi se non ci chiedete, gli altri più importanti, 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 gli altri più importanti. Anche lei, quando sedeva sui banchi della Commissione, insomma, aveva mostrato un'interesse verso la presenza della Commissione trasparente, io, il primo, ero stato dedicato, come vedete, insomma, invece a parte, perché mi c'era una legittima aspettativa da parte 2, per patire di circostante, insomma, in quell'occasione, qui contento di lasciare, insomma, la possibilità di circostante, in che il primo, la maggioranza è un nome che si chiede, firmamente tra i panni dell'opposizione, ma che poi, effettivamente, opera apprezzendo con questa maggioranza, forse inòi integralmente questa maggioranza. Quindi, da quello che faccio io alla maggioranza, è di rispettare i quali della maggioranza e delle posizioni. Fatto le posizioni, ah, non è andata male! Nelle norme che riguardano la posizione, lascia di essere fatica. E ci senti per dire che il consigliere non è andato. Presidente, spero di cosa stai. Presidente, spero di commentare perché noi accogliamo l'invito che ci viene fatto da poco nella diputazione di Giovanni del Prezzo nel 2014. E nello stesso tempo, in cui non sono ovviamente favorecili, è per dare il pensaggio, un po' appuntito nella sua identità che l'opposizione è unita nel fare una nostra bella. E io non faccio una verità che mi do alla maggioranza a rispettare l'attimo treno della ripostazione, che renda in questo cuore in appannaggio, in appannaggio da voi. Ma se ti faccio appello ai consiglieri comunali, a quelli che ti vengono, che le persone che non devono essere rispettate, a farlo ai figli che non si chiedono, e faccio a loro l'invito che in questa occasione che sono un dito che ci possa effettivamente caratterizzare nel dare il messaggio che si è al di sopra e al di sopra delle mani. E in questa maniera si può ricordare che il vino si può volare il pazzo, come diceva prima Giovanni II. E quindi a questi consiglieri vi invito a tenere nella giusta considerazione che l'opposizione sa quando è giusta di fare una rossa. Nello stesso tempo, fino a questo momento, non vedo che dai banchi in presso generale, quindi è deciso che deve essere così, non vedo che arriva una proposta stessa di quella di Giovanni II, perché è un tratto, è, come dire, complicato capire, perché guardate tutte, potete uscire, può uscire un nome diverso da quello di Casarovani, dalla maggioranza. Grazie. Grazie.